Parliamo con coach Diego Schweitzer di questa vittoria, due punti sono arrivati, cos'altro di positivo trai? Poco, nel senso che alla fine per come sono arrivati è chiaro che è stata un po' una cosa roccambolesca, nel senso che sembrava una partita già chiusa i primi due quarti e poi si è visto cosa è successo. Ci siamo spariti proprio a livello di tutto, di atteggiamento, di energia, di esecuzione, in campo non c'erano più, chiaro che se il contributo di Melchiori e Blasevic alla causa è questo, per noi è un grosso problema perché stasera ci siamo fatti una partita a chiedere sotto tono e fargli un complimento. Nel secondo quarto, negli ultimi due quarti, quando la partita sembrava chiusa, è mancato cosa alle ragazze? La concentrazione, la testa, cos'altro? Il fisico? Qualcosa di fisicamente è stata meglio carugata? Chi lo sa, nel senso che se lo sapessimo probabilmente eviteremo ogni partita di incappare sempre dentro lo stesso problema. Fisicamente no, nel senso che non c'è un problema fisico, è vero e proprio, stasera l'unica che aveva un problema fisico era Capoferri, era un problema contusivo e il resto della squadra stava bene. Però è chiaro che quando si perde poi di aggressività dentro il campo succede questo, cioè si lasciano tiri facili, si smette di attaccare, si smette di difendere e poi dopo unendo le cose il risultato è quello che si può vedere. Quindi questo continuo, insomma il problema anche visto nelle altre partite, è questo continuo attaccare e staccare la spina all'interno della stessa partita? Sì però è chiaro che, ripeto, noi abbiamo bisogno di un valore aggiunto da parte di alcune giocatrici come ti dicevo prima che in questo momento non sta arrivando perché se le prestazioni sono queste diventa veramente per noi un grosso problema. Cioè noi su alcune giocatrici abbiamo cercato di fare una campagna acquiste per avere un determinato tipo di risposte, è chiaro che in questo momento queste risposte non le abbiamo e il problema è anche questo, anche questo.